Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Andenovic! Porco Dio che si... Oddio tira! La tira figa! Ma come si tira su sto gioco di merda! La prende Colarev! Una finta di Colarev! Questo ref è fallo! Oh! Smalling! L'action replay, porco Dio! Madonna l'action replay! L'action replay... Dove vanno? Sei branch ed enani diversi! Là! Mamma mia! Ma solo il fenomeno sono! Ma è uguale all'altra parte di prima sta vera! Oddio che figata! C'è ancora il boost che però a noi non funziona! Che livello sono? Perché ho vinto 200... Sì ma stiamo a 1500 euro di saldo! Che cazzo ci devo dire? Il tempo... Il tempo scorre ma il saldo aumenta! Questo è buonissimo! Falcone grazie per i 19! Madonna Calimero benvenuto! Grazie! Ma questo è buonissimo che il tempo scorre e il saldo aumenta! Non ci capisco un cazzo! Non è importante capire! Alla fine abbiamo vinto! Quindi GG! Non fa niente! C'era! 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 Non c'era! No! No! Hai capito? Sei troppo forte! Sei troppo forte! Sei troppo forte! No no ma inutile! Non festeggiare neanche! Sei troppo forte! Sono il selvaggio! No ragazzi! Ma che cazzo sa! Fatto male gatto! Ma perché il cervello gli ha letto di saltare? Sono agitatissimo! Sono agitatissimo! Siuderone! È bello sentirti di nuovo! Con quante persone desideri giocare? Due! Ok! Come si chiama il giocatore uno? Pinocchio! Quindi il nome è Pinocchio! Si! Giusto? Si! Perfetto! Qual è il nome del giocatore due? Stronzone! Quindi il nome è... Giusto? Si! Nove e mezzo! Opta per una palla e mezzo ma riparti il team blu! Urlo! Vabbè ma signori! Ma è una partita a senso unico! Il Maracanà si infuoca! Ma si ma sono entrati altri al posto nostro Marzò! Eh si! Infatti mi sa che poi non giocavamo! Ma Dio porco! Ma guarda quanta cazzo di gente! Ma guarda quanti so! Adesso i blu devono... Eh vabbè ma adesso signori c'è un dominio! Ma il re è fortissimo! Ma guarda che palla che gli ha dai! Ma guarda quell'altro che l'aveva presa sale! Fiamo tutte le cose dell'arte! In un mondo, in un mondo ormai... Ormai... Distrutto da... In un mondo ormai distrutto da... Cacca... Sì che sono pazzo dentro il cervello! Dammelo ormai distrutto da... Sì che sono pazzo dentro il cervello! In un mondo, in un mondo... Riconosces... Este è il logo? Porco Dio! Tokyo o... Mercedes? Audi! È vero! È giusto! Era per mettere un po' di pepe! Calvin, Calvin! Cianè! Ma che cazzo ne so di Marche! Sopra Giulio di Don Carlo! Ivan Valerio! Angelo Crilele! Senti mi fate ringraziare i due sub? Non mi cagate il porco di Dio di cazzo! Mannaggia alla Madonna! Che siate inutili! Salmo, Quizzi, Ivan, Valerio, Criontilt, Lele, Angelo, Tizzi, Fabio, Giorgio, Davide, Bricia, Nanto, Leo, Matti, Dan, Damiano, Crasco, Luca, Solar, Stacuia, Avanti, Gian, Maciu, Devi, Sta' Zitto, Ivi, Beppe, Kingston, Paco, Alfa, Amaro, Spicchio, Damiano, Malbi, Coghi, Little Bo, Simpa, Janky, Visintis, Sborrofobia, Ruffo, Niki, Matti, Ilion, Davi, Mico di Vite, Christian, Desiri, Canepamu, Greg, Roche... Jaging, bentornati in China! Blanco come se la ride! Mi seguo! Mi seguo! Mi seguo! Mi seguo di nuovo! C'è, di tutte le parate hanno messo quello contro la Roma, The Magic Mike. A me è stata a PA per culo. Che è una parata della Madonna, porco Dio, perché sì. Si è mai visto un portiere che su una palla deviata, che cambia completamente direzione, la prende. Anche se poi il gol lo fanno comunque così, uguale. Che W. Forte! Forte! No! Oddio, porco! No, come è uscito Biggie! Maestro, bellissima ripresa! Tira la stecca addosso al muro! Ancora meglio, ancora meglio! Ci sono eh! Guarda... Tira la stecca addosso al muro! Vai! Eh... Ma c'era Frollo! Mh... Poca potenza! Questo crede eh! Bello! No, è par... No, urlo dell'Oxioneroro! Mi vedi, mi vedi, mi vedi! Che sta rientrà! Aspetta! Marzola! Spera! Che adesso sta raccogliendo ancora più persone per fare un regalo da 30 mila euro! Daytona 16 5 18! 16 5 18! Prendete il doppio delle persone e lo potete comprare! Stavo parlando con un solo motore prima che ho raccontato quello che mi è successo! Raccontavano quello che mi è successo! Se mi ricavate un Daytona 16 5 18 mi faccio una maratona da una settimana con il tutu addosso e non mi cambio mai! Sì! Gabbo! Masseo! Ovviamente! Ma sono serio, signori! È il mio Grey Watch! Cioè, penso sia il minimo! Ma che è? Cos'è sta roba? Ha toccato la tastiera, si è aperta sta roba! Ma che è? Ieni Bosca, Lisma, Kaitababi E Xelios Geldiniz A Tirtalatana, Takvimi Proge, Liste Yapma Liste Toplami Te devo trovare la madre e te devono ammazzà, porco Dio Martins! Ma non è caglionita! Ma non è caglionita! Ma non è caglionita! Guarda, 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 guarda! Ma? Ma? Cosa cazzo? Eh? Vado sul mio pene con... Quello è un altro che comunque le corse si era già fatte l'altra volta! E io mi sono rotta il cazzo di sta roba, porco Dio Ci siamo 6 miliardi di persone che devono fare corse Porco Dio E siamo sempre gli stessi E io ho fatto una caduta E io ho fatto una cazzata Eh, infatti sì perché... E io lo ho cracciata, eh! E io lo ho cracciata E io lo ho cracciata E io lo ho cracciata E io ero primo, sono dodicesimo, ma porco... No, è tutta rotta Ciao Ciao Franco Che cazzo è? Ciao Franco No non è vero non bisogna avere contenuti tranquilli Eeeh Buonasera Gianno ti chiedo di ascoltare questo messaggio grazie allo sdrogo Sono riuscito a creare un'azienda la sdrogo company Ho fatto un powerpoint l'ho esposto in classe e ho preso 9 Grazie Gianno TVB se vuoi ti mando il Come sapete benissimo tutti qualche anno fa abbiamo avuto dei problemi con l'agenzia reentrata C'è tanto questa è palese un'altra volta guacapagno lemure Moserlobo de mare impazzisco porco dio te giuro spacco qualcosa E' rlevole Sì però Eeeh Azzima 50 e 50 Porco dio Ma che sei c'è Passate il volume regà Mi vedi mi vedi mi vedi Che sta rientra Cato E' il gol dell'anno E' il gol dell'anno E' il gol dell'anno E' il gol dell'anno Porco dio non ci posso credere E' il gol dell'anno E' il gol dell'anno